Forse non se ne è mai parlato così tanto come in questi giorni. La velo stazione di Voghera è al centro delle polemiche in seguito ad un servizio di Sky TG24 che è arrivato nella nostra città per intervistare il sindaco Carlo Barbieri che ha reagito in maniera non proprio pacifica. Il motivo della visita? Il denaro sprecato circa 70.000 euro per realizzare l'opera ad oggi inutilizzata. La prima domanda che ti faccio è, ma tu lo sai che a Voghera c'è una velo stazione, sì o no? No, non lo sapevo, l'ho saputo tramite il servizio di Sky TG24, altrimenti non avevo letto nulla in merito, non sapevo, davvero. Quindi se dovessi chiederti a cosa serve la velo stazione di Voghera? La velo stazione dovrebbe servire per ospitare le biciclette che eventuali turisti affittano poi per andare a fare un percorso con i Nuei o per chi viaggia per stazionare la bici, però pare che oltre al fatto di non esserci biciclette che non ci siano neanche richieste, quindi non so. Infatti ti stavo per chiedere, secondo te se fosse attiva verrebbe utilizzata? Bisogna fare intanto una campagna pubblicitaria diversa, perché se pochi o nessun cittadino qui a Voghera lo sapeva è difficile che qualcuno la utilizzi, in più anche all'esterno se qualcuno deve venire a fare il turista diciamo ha bisogno di saperlo prima di tutto. Sai che cos'è l'info point di Voghera? L'info point di Voghera è dove c'è la pesa, giusto? Dove c'è Ponte Rosso, non ho idea di cosa facciano però so che è lì, l'ho visto passando, non ho idea di cosa facciano, di informazioni, ma di preciso non so bene cosa facciano. Guardi, in questo momento mi prende all'improvvista proprio come pensano tutti i cittadini vogheresi, però penso che qualcuno sapeva che c'era questa struttura qua, non è stata giustamente utilizzata a dovere sicuramente. In questo punto, non lo so, adesso sarà una bella grana per il Comune di Voghera e per tutta l'amministrazione nuova che c'è adesso. Potrebbe essere utile? Sì, io penso di sì, per tutti i cittadini vogheresi e non che vengono a fare un po' di attività ciclomotore, moto, biciclette, qualsiasi cosa. Però c'è un'altra cosa adesso, che adesso c'è la Green Wave lì e sperando sempre che non fanno l'inceneritore di gomme a retorbilo, il Pirolisi, è quello lì tutto il dramma, perché se no sarebbe una stupidata. Hanno fatto la Green Wave per le persone, per farle sfogare in qualsiasi modo e poi mi fanno un ceneritore a fare, proprio attaccato la Green Wave. Mi sembra una cosa non tanto giusta. Per concludere, sa che cos'è l'Info Point di Voghera? Sì, è dove penso che sia, tipo come tutte le città, dove vuoi sapere delle informazioni sulla regione, sulla città. Sa dove si trova qua a Voghera? Sì, penso in zona Ponte Rosso, credo. No, ho sentito la televisione ieri sera, credo, o l'altro ieri, per le biciclette, mi sembra. Però prima di questo servizio non lo sapeva? No. Ecco, adesso che ha saputo a cosa serve, secondo lei verrebbe utilizzata qualora dovesse essere un servizio attivo, sì o no? Penso di sì, penso che chi ha la bicicletta lo utilizzerebbe senz'altro, penso di sì. Ritengo che sia opportuno aprirla, sì. Che cos'è l'Info Point di Voghera? Non ne ho assolutamente idea.